My bestie and your bestie, sit down by the fire Your bestie says she won't party, say can we make these flames go higher Talking about hair now, hair now, hair now, hair now Aiko Aiko Ane, talking more feet Quelli erano i preparativi, adesso siamo pronti per la nostra presentazione Il mio nome è Irina Tjordea, sono una giornalista e un fashion designer e la mamma di Iris Prince Sono di origine rumena, ho 38 anni, di adozione lecchese Praticamente tutta la mia vita ho vissuto sul lago di Aiko Sono una persona solare, ma penso che questo si vede, adoro la moda Penso che anche questo si nota Il mio moto è sorridi anche domani e un giorno Perché scegliere me? Ma come non potete non scegliermi se volete una boccata d'aria fresca Tanto divertimento, bon ton, lezioni di stile Non potete che scegliere me